È un romanzo che parte da un luogo, una piccola isola su cui è stato creato un ufficio postale, chiamato un ufficio postale alla deriva, cioè dove tutte le lettere con un destinatario che però non posseggono un indirizzo vengono raccolte, lettere che uno scrive al se stesso del futuro, ai dentini da latte, alle scarpe oppure a un padre defunto. Il fascino della narrativa internazionale, protagonista ancora una volta alle vecchie segherie Mastro Totaro di Biceglie con la scrittrice Laura Imai Messina, autrice del libro Tutti gli indirizzi perduti, il racconto di una piccola isola nel mare interno di Seto in Giappone con soli 150 abitanti. Qui il lettore si imbatte in un piccolo ufficio postale in cui vengono conservate tutte le lettere spedite a un destinatario irraggiungibile. Laura Imai Messina, originaria di Roma ma da anni residente nel paese del Sollevante, consegna un nuovo romanzo evocativo sulla scia dei precedenti già tradotti in tutto il mondo. Il Giappone è più che una fonte di ispirazione, è metà della mia vita. Sono partite che avevo 23 anni, ora ne ho 43, entro nel 44esimo, quindi sono 21 anni che abito in Giappone. La lingua è rimasta la lingua italiana, quindi uno stile più ricco e tuttavia questa capacità io credo evocativa del Giappone, cioè di dire meno però dando più senso, sono alla base io credo non soltanto della mia produzione, come dire, da narratrice, da scrittrice ma proprio il mio modo di affrontare la vita. La cultura giapponese è raccontata nei suoi aspetti più affascinanti e a volte nascosti, cercando quelle immagini che possano avere un senso universale. Io spero di aver dato un apporto di, come dire, apertura, nel senso che uno pensa a me, probabilmente legata al Giappone, tuttavia ciò che io vado a cercare di tutte le possibili storie in cui mi imbatto ogni giorno, cerco quelle storie che hanno un senso universale, tant'è che quando parlavo della cabina del telefono, del vento con cui si parlava con i defunti, poi sono state create delle cabine in tutto il mondo. I miei libri sono tradotti al momento in 31 paesi, il che vuol dire che comunque, come dire, oltrepassa, valica poi il senso, come dire, stretto della cultura giapponese per diventare, come dire, una fonte di ispirazione per persone di tutto il mondo.